A due giorni dal match contro la Casertana, in casa Catania si studia il piano di aggancio a Lecce confidando che la capolista trovi sul campo del Trapani le stesse insidie incontrate dai rossazzurri poco meno di un mese fa. Per il Catania si profila una nuova Ghiotto occasione per accorciare le distanze, ma in casa rossazzurri è ben chiaro che si dovrà pensare innanzitutto a battere la Casertana, perché altrimenti qualunque altro calcolo sarebbe inutile. E l'ultima sfida del 2017, l'ultima prima della sosta, e i rossazzurri si presentano a questa partita con il vento in poppa incoraggiati dal nuovo rendimento positivo in trasferta, che vede il Catania addirittura primo in classifica con 21 punti conquistati fuori casa. Lucarelli quindi adesso dovrà spingere la propria squadra a fare lo stesso anche in casa, considerando che il Massimino è da sempre la fortezza del Catania e che la maggior parte dei punti sono arrivati grazie al fattore campo. Nelle prossime 48 ore al tecnico rossazzurro toccherà dunque disegnare una formazione che in linea di massima sembra già fatta e che dovrebbe presentare ancora Marchesa al fianco di Aia e Tedeschi e a protezione di Pisseri, con semenzato ed esposito sulle fasce. In linea mediana andranno ancora Biagianti e Mazzarani, con fornito sempre in vantaggio su Caccetta, mentre in attacco il duo formato da Curiale e Ripa resta intoccabile. Grazie.